Volontari in azione anche a Cesio per la pulitura delle strade dall'erbaccio, un gruppo di cittadini e con loro anche gli agenti della polizia provinciale, il presidente e sindaco di Cesio Fabio Natta, hanno provveduto a ripulire la strada provinciale 95 lungo il tracciato dell'ex Statale 28 che aveva bisogno di un intervento di manutenzione. In prima linea anche il vice sindaco Simonetta Barla. Natta ha ringraziato tutti i partecipanti all'intervento per la sensibilità che hanno dimostrato verso il loro territorio e la collettività. Grazie a tutti.